Sto farò l'uomo per un eventuale Guinness Siamo venuti tutti insieme da Finale Ligure per fare un Guinness World Record Siamo sulla seconda nave più grande al mondo Siamo arrivati qua, stiamo studiando, abbiamo mangiato la cioccolata, ci siamo concentrati E adesso ci concentriamo ancora di più E le bici sono in macchina? Le bici sono in macchina con le quattro frecce Parlo un po' rallentatore perché ho freddo No, allora tirati sulla ciamierina Poi un fisico come il tuo ha freddo Dove si metterti a torso nudo per un'intervista del genere E me lo faccio sempre Ciao ragazzi Ciao ragazzi